Uno, due, tre. Che cosa vuoi imparare, Giorgio? Super slow. Nome di Cristo. Ok, allora, eccolo. Uno, due, tre. Ecco, arrivato. Babbo Natale. Babbo Natale. Babbo Natale. Albero. Albero. Pupazzo di neve. Pupazzo di neve. Regalo. Regalo. Campane. Campanum. Lettera. Lettera. Caramelle. Caramelle. Questo? Renna. 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 Questo? Fiocco di neve. Fiocco di neve. Neve. Ecco, va. Babbo Natale. Babbo Natale. Albero. Pupazzo di neve. Pupazzo di neve. Regalo. Regalo. Campane. Campane. Questo? Lettera. Lettera. Caramelle. Caramelle. Questo? Fiocco di neve. Fiocco di neve. Fiocco di neve. Ecco qua, Giorgia. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Allora ci vediamo al prossimo. Vediamo al prossimo. Vediamo al prossimo. Próximo! Próximo! Ciao! Ciao! Anni a avar da pochaccio